Musica Sono a Piazza Duomo da Cireale, si stanno per montare un po' di stand per i mercatini di Natale e la novità di quest'anno di Natale, ascoltiamo l'assessore al turismo Antonio Coniglio nel frattempo stiamo attenti a non farci mettere sotto le auto Innanzitutto per quanto riguarda la chiusa posso rassicurare che a breve le auto non ci saranno più perché è stata istituita nuovamente l'isola pedonale per quanto riguarda l'allestimento dei mercatini ci siamo quasi le ultime ore lavoreremo fino a domani pomeriggio alle 16 con l'inaugurazione e poi alle 18 l'inaugurazione della casa di Babbo Natale intorno il circuito dei presepi e tutto quello che già abbiamo annunciato nei giorni precedenti Assessore non voglio insistere ma domani questa inaugurazione avverrà a traffico aperto perché questo è un passaggio importante no domani ci sarà un'inaugurazione a traffico chiuso ovviamente il tema è che a causa dei lavori di via Galatea ci dobbiamo prendere qualche altro giorno perché non si riesce a determinare un quadro sereno con via Galatea chiusa in parte e l'assetto che ancora non è organizzato ma l'isola pedonale ci sarà Assessore Coniglio l'ultimissima lei è arrivato per ultimo in questa giunta manca ancora un pezzo posso chiedere personalmente nella letterina a Babbo Natale che ci sarà presto un Assessore alla viabilità visto che la Cireale ha grande necessità di questo penso che questo sia pure un tema di carattere politico che impegnerà nei prossimi mesi la nostra coalizione al momento le deleghe sono state eseguite direttamente dal sindaco non c'è dubbio che è una questione politica pure questa dico che poi al di là della questione di chi fa l'assessore il problema ripeto è quello di continuare nella direzione che ci siamo dati che è quella della chiusura del centro storico della nuova segnaletica questo poi a prescindere da chi sarà l'assessore lo può fare l'aggiunta quindi a prescindere da tutto nei prossimi mesi eventualmente la faccia ce la mette l'aggiunta in solito grazie a tutti grazie a tutti